Arriva il nuovo DPCM, arriva la nuova conferenza stampa del Presidente Conte e arrivano le nuove misure. Torna tutto come uno schiaffo e, sia chiaro, è uno schiaffo evidentemente necessario, perché i numeri ci dicono che la crescita ormai è fuori controllo, perché le testimonianze dei medici e degli infermieri raccontano di ospedali che stanno tornando a straripare e perché no, non funziona che negare un problema lo elimini dal tavolo. No, non funziona. Però c'è un dato su tutto, che è un dato politico, ma anche affettivo, economico, professionale e inevitabilmente politico. E va registrato. Noi non siamo più gli stessi di inizio pandemia e di questo si deve tenere conto se vogliamo provare ad analizzare le difficoltà del momento e inevitabilmente le difficoltà di queste nuove decisioni. Non siamo più gli stessi perché nel Paese c'è gente, tantissima gente, che ha seguito le regole, che si è comportata responsabilmente in tutti questi mesi. C'è gente anche tra i professionisti, i piccoli impeditori, che hanno adattato la propria quotidianità ai nuovi protocolli, che sono stati molto attenti a tutti i gesti, a tutti i loro gesti e a quelli dei loro clienti. Il governo ha dato delle disposizioni, le regioni hanno dato le loro disposizioni e quelle regole spesso sono state applicate per filo e per segno. E se all'inizio della pandemia tutti erano più disposti a sacrificare, a sacrificarsi, ora i cittadini sono presi da un senso di risentimento contro chi le regole le ha evase o le ha scritte e previste male. I trasporti pubblici ogni mattina sono un esempio paradigmatico di come sia difficile accettare il lockdown del proprio tempo libero, mentre si registra continuamente una mostruosa pericolosità negli spostamenti lavorativi. Non siamo più gli stessi perché abbiamo registrato e qui su left ne abbiamo parlato tantissimo. Tutte le irresponsabili voci di chi quest'estate in nome dello spirito ludico ci ha voluto ripetere di non preoccuparci, di stare tranquilli, che era tutto finito, che era tutto passato, che non sarebbe ritornato. Non siamo più gli stessi perché abbiamo visto cosa significhi. Con i nostri occhi un sistema sanitario fuori controllo, quello che lascia morire la gente in casa e che ti lascia per giorni in attesa perfino di una diagnosi, figurarsi una cura. E se prima c'era la giustificazione della pandemia improvvisa, ora ci viene naturale chiederci perché farsi trovare impreparati di fronte a qualcosa di prevedibile e addirittura previsto. Non siamo più gli stessi perché abbiamo provato sulla nostra pelle le cicatrici di un'amputazione sociale e affettiva. L'abbiamo già provato. Sappiamo cosa significhi avere paura del futuro. Sappiamo che il welfare è quella cosa che deve permetterci di rimanere in piedi, anche ciondolando, garantendo la sopravvivenza economica oltre che sanitaria. No, non siamo più gli stessi perché probabilmente ci siamo anche incattiviti. Non siamo più disposti a sopportare errori ripetuti come se non si fosse già vista un'esplosione epidemica. Non siamo più disposti a non sentirci protetti. I sacrifici ora devono essere accompagnati dai fatti. Conte l'ha capito benissimo e infatti ieri ha parlato di sussidi economici come punto centrale del proprio discorso. Vedremo. La retorica non funziona più, questo è sicuro, nemmeno il paternalismo. Se salvarsi costa sacrificio, ora serve un governo e servono anche dei governi regionali che siano disposti a pagarli. Ma c'è un punto sostanziale, noi non siamo più gli stessi e qualcuno sotto traccia in modo subtolo cercherà di usare questa stanchezza per trasformarle in rabbia. Ci sarà qualcuno che proverà a usare diritti che sono messi sotto stress per usarli come innesco di odio e di violenza. Vedrete, è sempre lo stesso copione, funziona sempre così. È un momento delicato e molto importante al di là del virus. Bisogna pretendere il rispetto delle difficoltà di tutti senza cadere nel ventre molle di chi usa e userà la disperazione come un'arma. Non è un momento facile, non sarà facile. Buon lunedì.